L'installazione dei prodotti è molto semplice e non hai bisogno di un professionista. Tutto ciò che serve è una smerigliatrice angolare, una penna, un righello, una spazzola metallica, una spatola, una livella, colla. Si consiglia di utilizzare dispositivi di protezione, guanti e occhiali protettivi. Dato che abbiamo pezzi con una varietà di forme e sfumature in ogni scatola, si consiglia di mescolare tra loro i pezzi da più scatole, prima di iniziare l'installazione, per avere un'armonia di forme e colori. Simulare la posa sul pavimento vi darà un'idea dell'effetto finale al muro e vi aiuterà a scegliere la posizione delle singole placchette. Prima di cominciare l'installazione, verificare che il supporto sia asciutto e in buone condizioni. Iniziare sempre da un angolo. Se necessario, tagliare la placchetta, tracciare una linea di taglio e tagliare con una smerigliatrice angolare sul repo, per evitare le scheggiature. Iniziate l'installazione da un angolo. Applicare la colla sulla parete e sul dorso della placchetta. Per una migliore aderenza, si consiglia di raschiare il dorso delle placchette con una spazzola metallica. Premere la placchetta alla parete effettuando un movimento avanti e indietro in orizzontale. Ripetere la procedura per il resto delle placchette. Utilizzare una livella per assicurare il corretto allineamento tra le placchette. Quando si inizia una riga nuova, posizionare la placchetta superiore evitando l'allineamento verticale con la placchetta inferiore. Questo accorgimento migliorerà l'aspetto finale della parete e vi consentirà di ottenere un aspetto più naturale. Dopo aver terminato l'installazione, si consiglia di utilizzare un prodotto olio e idrorepellente per facilitare la manutenzione e la pulizia delle placchette.